di rinetta così si chiama e poi l'altro motivo che ci propone Simone è un'altra canzone di Massimo Ranieri, stasera mi sa che facciamo tutto il repettorio di Massimo Ranieri, è vero? Allora questo metà ce lo fa ascoltare Simone, vi lascio in compagnia di Simone appunto e gli dovete fare un applauso, è inevitabile! La canza di un piano di avvicinità, di rinocce la tua porta e scusa, è finito io so che quando si bella, quando ti spogli di mali tu fai, e quando ti buca cosa sia così bella, e che oggi in un mattino, si la pullari, passa la porta di s'espanca della, che è stata lontini e il vero sovalli. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!